Le anticipazioni del segreto del video di oggi, si concentrano sui personaggi di Franziska Montenegro e il suo uomo di fiducia, Maurizio, ma ascoltiamo con attenzione fino alla fine. Negli episodi che abbiamo già visto, la domestica Fè aveva eliminato Caridad, disperata per il gesto commesso, la donna si era rivolta a Donna Franziska per nascondere il corpo e far sparire tutte le tracce. La Dark Lady ha subito accettato la richiesta di aiuto, ma in cambio ha ordinato a Fè di togliersi dalla testa Maurizio, per sempre. L'uomo adesso non riesce a capire come mai la sua cara Fè sia improvvisamente diventata un'altra donna, distaccata e sfuggente. Ma presto la verità verrà a Galla, e i due amanti decideranno di fuggire via dal paese. Ma, come è già noto, è davvero impossibile nascondere qualcosa a Franziska? La donna infatti verrà a conoscenza del progetto di fuga dei due, e quindi metterà in atto un piano assurdo, obbligare Maurizio a sposare Nazaria. L'uomo sarà costretto a farlo, perché la Dark Lady altrimenti farà ricadere su di Fè tutta la colpa per la sparizione di Caridad. Fè proverà a pregare Franziska, ma senza esito, deciderà quindi di andare via da Puentevieco per non vedere il suo amato assieme ad un'altra donna. La Dark Lady si goderà quindi il suo attimo di gloria, ma non durerà molto. Nazaria infatti le dirà che Maurizio non si comporta da marito con lei, perché è ovviamente innamorato follemente di Fè. Nazaria troverà inoltre delle lettere che Fè continua a spedire al suo caro Maurizio, e le consegnerà a Franziska. Cosa farà a questo punto la matrona? Quale altro piano architetterà la sua mente? Se il segreto ti appassiona, metti un bel mi piace ed iscriviti al canale per non perdere le nostre migliori anticipazioni.